amici zagoriani bentornati eccoci al nostro appuntamento settimanale con il volume della gazzetta dello sport quella della sera il cartonato di zagor allora oggi è uscito a Watanka river il numero 63 ecco vediamo nella costa si vede già quasi completamente l'avvoltoio quindi siamo già un pezzo avanti ok diamo un'occhiata com'è questo volume intanto si giusto diciamo che il disegno della copertina è tratto dal dall'albo zenit la grande rapina e ci hanno segnalato la copertina due nostri affezionati non lettori ma insomma amici del canale e uno è iam zach e alessandro leo che ci hanno segnalato la copertina da cui è tratta quindi grazie a loro e andiamo a a vedere come quest'albo allora ok quello lì che è un avventura il suo stile un editore il suo stile è un'avventura perché qui probabilmente si parlerà ancora del vediamo castelli fanno riferimento a castelli di creazione di castelli si parlano ancora un pochino delle impronte che ha dato la bonella e fumetti e tutto ciò che ne girava intorno qui vediamo una bella storia di un uomo all'avventura di ugo catti ok qui c'è la fine sappiamo della storia di nenolitta ferri bellissime queste vignette in ultima volta ci soffermiamo che rimaniamo guardate queste ok qui dovrebbe finire la storia e cominciare ai conti di la faiette si esattamente ok ok qui comincia nolitta donatelli la nuova storia ok andiamo anzi guardiamo che cico si prende un destro di zagor vabbè perché non ho letto la storia non voglio rovinarvi la sorpresa ok in fondo cominci prima parte parliamo di un'altra tribù indiana con disegni e storia ok qui una copertina non per una stampa di giovitonuccio che fa riferimento probabilmente alla storia ah no è una realizzata per albissola albissola nel 2012 ok qui fa riferimento comunque alla copertina di il 24 lato mi pare ok ecco qua allora qui vediamo la copertina è facile anche stavolta eh ragazzi la copertina al prossimo volume è la prima volta che vediamo che non c'è solo zagor ma insomma interagisce con qualcosa nella copertina invece che avere una posa statica non si capisce bene con chi ce l'abbia o cosa faccia ok abbiamo qui fino al numero 70 però ci hanno segnalato che sul sito ci sono fino a 75 quindi adesso ve li farò vedere e poi ne riparliamo ecco come vi dicevo ci sono fino a 75 vedete c'è ultor l'uomo dai mille volte paradis gate i fratelli del fiume non ci sono le copertine ma ci sono i titoli la lama del samurai l'onore il sangue principe in incognito intriga corno insomma fino a 75 ci sono i titoli sul sito ok poi vedremo le copertine appena avremo le anteprime ecco dopo aver visto la lista fino a 75 ok dicevamo che prossimo numero il fiore della morte abbastanza facile storica anche questa copertina vediamo che riesce a indovinare nella quarta di copertina un cico bello gagliardo che spara al zagor che si rifugia sotto il letto fa ridere questa copertina vabbè e va bene ragazzi questo è il nuovo numero del nuovo cartonato della gazzetta dello sport in edicola da oggi buona giornata a tutti